Cambiamo argomento con gli annunci di apertura dei cantieri per il terzo valico ferroviario dei Giovi, riprende l'attività dei comitati che si oppongono alla grande infrastruttura. Vediamo con Teresa Tacchella. Le prime riunioni di cittadini sono a livello comunale o di zona, tante in diverse località dell'Appennino Ligure, tra Genova e Alessandria. Lungo il tracciato del terzo valico ferroviario dei Giovi, un tempo linea ad alta velocità tra il capoluogo Ligure e Milano, poi diventata ad alta capacità per le merci, stimata in forte crescita negli scorsi decenni, con i primi finanziamenti annunciati e le ipotesi di avvio dei cantieri, riparte la lotta dei cittadini del neocomitato no TAV, no terzo valico Ligure-Piemontese. Obiettivo? Fermare i cantieri giudicati devastanti per la popolazione e i territori, dalla Valpolcevere alla Vallemme, ad Arquata Scrivi, a Novi Ligure, un'opera spiegano troppo costosa, oltre 6 miliardi di euro, che fa gola alla criminalità organizzata. Davanti alla crisi, davanti alle popolazioni che soffrono, davanti ai pensionati, ai lavoratori, agli studenti, che non riescono più a vedere un futuro in questo paese, invece si decide di finanziare un'opera inutile come questa, che è utile solamente a chi la costruirà. E se in Vallemme preoccupano i quasi 2 milioni di metri cubi di smarino, il materiale di scavo ricco di amianto nella ex cava cementi, in un deposito definito dagli studi del Politecnico di Torino contro la legge, in Vallescrivia a rischio è l'acquedotto, spiegano i comitati, mentre a Genova a preoccupare è il traffico di camion tra la Val Polcevera e Sestriponente, già oggi molto pesante.